You should pull the fucking trigger E tra poco vi faremo vedere tutto quanto Ci sono tante persone belline E niente ci vediamo dopo Ciao Ciao E la mitica Chiara Fumica Nella Mandala 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 Qui c'è Matteo Iris E la Sophie Ciao Poi chi c'è qua? La mamma di Simi E la mia idola Perché si vede così? No chi è che c'è? Oddio Che cosa carina Ciao Ragazzi Ciao Allora è arrivato Marco È il vlog Susanna Ciao Ludovica È il vlog È il vlog Che bello occhi Piacere Virginia Piacere Qua c'è la mia unica Il mio unico grande amore Ciao Poi La mitica Qua c'è chiara Poi vediamo Qua sempre le solite Sophie E Iris E io Dov'è Francesco Ma che devo fare? Sono a cultura Stanno cucinando qualcosa di... È un video? È lei va di madonna cancro Cancro È un video di qualcosa Ciao Ciao Arriva buongiorno Arriva buongiorno Arriva buongiorno Allora mi sapete dire che sono che non ho l'orologio È 15 e 27 15 e 27 E io sono qua con la Camilla Con Iris No Camilla no Camilla Ah scusami con Camilla E abbiamo appena finito di mangiare qualcosa È iniziato il meet and greet Tra poco inizierà la sfida eccetera E stiamo rubando cibo da Ludovica Ciao Ludovica Ciao Ludovica che è andata a prendere il cibo E niente adesso Adesso non si sa cosa faremo Mangeremo E poi andremo a vedere la finale europea Yeah È iniziata la finale Mamma mamma don't like you She likes everyone Mi ricordo sempre che io ho iniziato a vlog E io ho iniziato a vlog Saluta al vlog Ciao vlog È spazzito Grazie È finito Grazie Ma che figata Ma che figata È finito ha iniziato il vlog È finito Ma no Scusa In provviso Chiedo scusa per la Ligia Mi torno l'informazione Me la fai ripartire Mi raccogliere Mi raccogliere Mi raccogliere Mi raccogliere Mi raccogliere Mi raccogliere Vediamo cosa fanno È finito È finito È finito Oh È ca flagcogliere Mi raccogliere Mi raccogliere Mi raccogliere Ragazzuoli, strano ma vero Mi sto ricordando C'è una luce abbastanza orrenda Tipo sembra tutta rossa Comunque, mi sto ricordando di finire il vlog Vi rendete conto quanto io posso essere brava? Cioè, non è successo Sembro non lo so, ragazzi Ma non sono così rossa, almeno spero Vabbè Comunque, sono le 11.05 Io sono arrivata a casa alle 10 o qualcosa È stato un evento davvero magnifico Mi dispiace perché non sono riuscita a fare la foto con Lisa Elena Ma i numeri sconosciuti che mi chiamano a quest'ora Ma vabbè, spero che ci sia un'altra occasione per vederle Magari scambere anche due chiacchiere, eccetera Mi ha fatto davvero tanto piacere conoscere tutti gli altri user Che magari non conoscevo ancora È stato un evento davvero emozionantissimo Eravati infinitissimi C'erano user O comunque persone da tutta Europa Spagnoli, francesi Tedeschi C'era di tutte Quindi, wow, davvero Io vi voglio un sacco bene Vi volevo ringraziare ancora per la giornata di oggi Questo vlog spero di caricarlo il prima possibile Non di fare come quello della B.U Che non è ancora uscito Però dopo questo vlog giuro che uscirà anche quello Perdonatemi E detto ciò, niente, seguitemi su tutti i miei sociali Un bacione enorme Vi vado tanto bene E ci vediamo al prossimo video Ciao